Il primo messaggio mi è arrivato pochi minuti fa, poi ne sono avanti degli altri, sono appena rientrato a casa, ho guardato un attimo, c'è la notizia in prima pagina sui giornali, è mancato Silvio Berlusconi, non può non dispiacermi, per chi non lo sapesse, penso che lo sappiamo un po' tutti, ma soprattutto i giovani, Chioggia Azzura nasce anche per Berlusconi, perché allora ero consigliere comunale di Forza Italia e il blog è stato fatto proprio azzurra, proprio per questo motivo qua, poi da un blog essenzialmente politico si è trasformato in blog informazione e siamo ancora in evoluzione. Berlusconi ci ha lasciato una grande eredità, è stata una persona unica, siamo tutti unici, ma lui in particolare ha fatto di tutto e di più, una persona con tutto rispetto della sinistra, io non ho nessuna accezione negativa verso la sinistra, penso che dobbiamo rispettare le idee politiche di tutti, ma nel 1984 se non fosse sceso in campo l'Italia non sarebbe stata la stesa cosa se avesse vinto la sinistra, lo dico col cuore in mano, nessuno si offenda e quindi a mio avviso veramente ha traghettato l'Italia in un modo completamente nuovo, il vecchio erano i D'Alema, i Locchetti, con tutto rispetto, lo dico proprio col cuore in mano, facendo questa attività ho imparato anche a rispettare le idee di tutti, di tutti no perché qualcuno non le rispettiamo, tipo AX o Ultras o cose del genere, però per quanto riguarda la politica dovrebbe essere così. Certo Berlusconi, Rori ne ha fatti tanti, chi non ne fa in politica poi è difficilissimo non farla, però vorrei ricordare su alcuni passaggi, ricordo benissimo quando è venuto Gheddafi in Italia e lui l'ha accolto in un certo modo e ricordo qualcuno che si indignava perché aveva accolto Gheddafi in quel modo, abbiamo visto poi cosa è successo in Libia, la stessa guerra in Ucraina non è assolutamente per fare i filoputiani, ma probabilmente le cose avrebbero potuto prendere una piega diversa se fosse stato ancora Silvio con una maggioranza più forte e una visibilità maggiore. Certo Errori ne ha fatti tanti, ormai anche l'età era avanti con l'età, era un dispiacere, c'è stato l'ultimo video che aveva pubblicato, il penultimo, quello che era ancora in ospedale che onestamente non ho avuto neanche la forza di guardarlo, ho guardato proprio 30 secondi e voglio ricordarmelo come lo vedeva con il convention, la forza, la simpatia, la generosità che aveva eccetera. Ecco c'è da augurarsi che gli eredi di Forza Italia, chi ha adesso il partito in mano, si capiscano che non avendo Berlusconi devono preservare la sua eredità e portare avanti quegli ideali liberali che aveva, che erano ovviamente degli ottimi ideali, che poi non è così facile tradurli perché poi le esigenze di una società con tantissimi problemi non è facile portarle avanti, quindi con dispiacere ci ramarechiamo, d'altra parte non siamo eterni, non è eterno accettamento di lui, spero che battute cattive come al tempo dietro c'erano siano finite, perché insomma rispetto almeno della morte ci sia, verso questo italiano che ha fatto veramente a mio avviso tanto bene per tutti, per tutti quanti, era sicuramente una persona generosa e ha cambiato veramente la storia del nostro paese in meglio, in meglio, che se ne dica in meglio. Io c'ero che la volta, era il 1984, ricordo benissimo tanti che dicevano un sacco di fregnacce, che dicevano ma no un imprenditore non puoi mettersi in politica, non vincerà mai, ha travolto, ha vinto tranquillamente, ha fatto un partito nuovo e c'è stata tutta una cosa eccezionale, certo aveva le televisioni, ma non era solo per quello, l'abbiamo votato quella volta tantissimi perché appunto era carismatico, una persona carismatica, una bellissima persona e niente, non c'è tanto altro da dire insomma.